Vado eh? Allora? Allora, con l'obbio fatto, ma mi manca solo la visita medica. Dai, eh. Mi ha riscritto Luciano prima. Ha detto che ci arzerebbe la percentuale. Te che dici? Non lo so, magari ne parliamo con Iro domani. Non lo so. Bello, Andri! Vieni qua! Vieni, vieni! Che cazzo ci fa qua? Quella la vedete il padre, non lo sapevi? L'ho conosciuto. Ciao. Bello. Visto eh? Dani si è convinto pure a lavorare. No, non è sicuro, ancora non mi hanno preso. Vittorio! Arrivo! Vai lì, regà. Bella Vitto. Io a Marco non gli ho detto niente. In qualche modo l'ha saputo. Ma che ti ha detto? Sti cazzi. Che hai fatto al naso? Vi, non ci sono noi. Vittorio! Vittorio! Vittorio!